Musica Quando Natale fa rima con musica e solidarietà per l'Ant, quest'anno il regalo arriva grazie a un disco. Natale in musica per l'Ant di Brescia, sotto l'albero la sezione locale dell'Associazione Nazionale Tumori troverà infatti ricavati dalla vendita del CD dal titolo A volte gli angeli non volano, a cura di Sassà Massarelli e Flavio Trapelli. La scelta a l'Ant va perché è un'associazione molto vicina, sappiamo effettivamente come vengono investiti i soldi del ricavato del disco e quindi abbiamo deciso sicuramente al buon fine di questo CD. La vendita totale, il ricavato della vendita, non verrà detratta nessuna spesa come abitualmente si fa nelle altre buone famiglie, il ricavato totale della vendita andrà all'Ant, per cui non ci saranno detrazioni meno. 10 euro il costo del CD, 10 euro per chi lo acquisterà saprà che il ricavato andrà all'Ant. Flavio Trapelli, dentro il CD che cosa si può trovare? C'è un misto di canzoni italiane, di canzoni straniere di tutta l'epoca, dagli anni Sessanta, Evergreen, sono ovviamente delle cover ma rivisitate come arrangiamenti e ogni pezzo ha qualcosa di particolare rispetto all'originale. Il disco sarà ora sponsorizzato attraverso radio e TV nelle catene di musica e in serate di beneficenza e l'Ant ovviamente ringrazia. C'è stata anche una grande coincidenza, il titolo di questo CD è A volte gli angeli non volano, i nostri medici che assistono i malati di tumore tutti i giorni vengono chiamati angeli proprio dai nostri assistiti, dalle famiglie, ecco perché assistono e quindi sono vissuti proprio come angeli.